Cercasi disperatamente marciapiede. Questo è l'allarme lanciato dai residenti di via Passo delle Aci e via Fulce a Catania. Qui fatta eccezione per qualche breve tratto, per giunta largo pochissimi centimetri o bloccato come si vede dall'ingresso di un'abitazione, i pedoni sono costretti a camminare sulla strada dove passano le autovetture. Un disagio, o meglio un pericolo per la loro incolumità, come ci raccontano. È impossibile camminare, è difficile. È troppo stretto e due persone non ci possono camminare. E non uno ci entra, dove c'è il bacone. Ma lei se dovesse chiedere all'amministrazione degli interventi che cosa proporrebbe? Dallogare la strada. Sta camminando lei sulla strada perché è impossibile camminare su questo marciapiede? Perché è piccolo, è troppo piccolo. Anche chi abita qui praticamente rischia ogni volta che esce da casa di essere investito da una macchina? Come sono state investite anche io. È impossibile camminare? Niente che fa schifo, soprattutto e poi non viene bene a camminare completamente, sia di qua che di qua. Un problema sicurezza dunque, specie per i residenti di via Fulci dove il marciapiede è praticamente inesistente e che ogni giorno prima di uscire dalla porta di casa devono stare attenti a non essere investiti. Occorrono interventi tempestivi iniziando magari a non far parcheggiare le macchine da una parte della strada. Una soluzione tampone per alcuni abitanti del posto che però reclamano a gran voce l'attenzione dell'amministrazione comunale.